La Sib Confcommercio lancia una campagna per difendere il mare di Pescara da quella che viene definita una campagna denigratoria che potrebbe compromettere la prossima imminente stagione estiva. Per questo nei prossimi giorni verranno affissi dall'Associazione in Città manifesti con la scritta Continuate ad amare il nostro mare. Secondo me c'è stato eccessivo allarmismo e ci continua ad essere. Stiamo cercando insieme di promuovere, di tranquillizzare. Siamo convinti che il 16 maggio la balneabilità sulla città di Pescara, su tutto il comparto, tornerà balneabile fino al 97%. Questi sono i dati che attualmente noi abbiamo avuti dal Comune. La cosa che a noi ci preoccupa di più è che questo modo che si sta facendo sui social network per quanto compete l'apparizione a tutti i costi di andare a verificare la nicchia negativa e ci sta portando veramente a rincorrere e a dare notizie. Questo modo di fare campagna promozionale ci sta mettendo in crisi, ma ha messo in crisi un intero comparto. Il comparto del turismo è in crisi veramente, ma non è che pensi che Pescara entra in crisi solo Pescara, entra in crisi un intero comparto. Metteremo manifesti su tutta la città dove c'è scritta Continuate ad amare il nostro mare. Non credete a notizie tentenziose che portano a denigrare l'immagine del nostro comparto.